Sul candidato, sulle disponibilità è ancora prematuro, vedremo nei prossimi mesi. Un secondo mandato per il sindaco Francesco Rucco. Al momento lo stesso primo cittadino mette le mani avanti e aspetta il confronto con la coalizione del centrodestra, anche se dalla sua lista civica, oggi in assemblea per la nomina del nuovo direttivo, premono per il bis senza alternative. Alle elezioni amministrative 2023 manca un anno, ma il clima da campagna elettorale già si sente nell'aria, come hanno testimoniato le due iniziative di Fratelli d'Italia e della coalizione competitor del centrosinistra. E iniziano anche i dialoghi tra quelle forze, fino ad oggi non schierate, che potrebbero però pesare al momento del voto. Non è certo passata inosservata infatti la presenza del sindaco Rucco al convegno renziano di Italia Viva a Villa Lattes. Nell'incontro di questa mattina della civica al Tiepolo in apertura, il sindaco Rucco ha ricordato come la lista si è cambiata di non sentire affatto la mancanza di chi con lui ha iniziato e ora non c'è più, viste le scelte prese. Non vi nascondo l'amarezza di aver perso nel lungo viaggio alcune persone che credo che alla fine non abbiano guadagnato nulla nello spostarsi, anzi sono rimaste direi molto isolate rispetto a quello che gli era stato promesso nel passaggio. Idea Vicenza che dopo aver perso esponenti, poi attirati dai partiti, sarà senza bandiere. Credo in questo gruppo civico che rimarrà civico, questo lo chiarisco per evitare ogni altra speculazione anche da parte delle minoranze. La civica ora lancia anche un percorso di dialogo con la città tra sondaggi e punti di ascolto a partire dai quartieri. Lavoreremo sul territorio, quindi adesso stabiliremo le modalità per arrivare a parlare con le persone, raccogliere suggerimenti, critiche, proposte e continuare a operare per il bene della nostra città.